Allora, l'anemia in gravidanza può essere causata da diversi fattori. Il principale è un aumentato, fa bisogno, di ferro in gravidanza. Questo viene sperimentato da tutte le donne. Seconda grande causa dell'anemia in gravidanza, quindi di questa carenza di ferro, è dovuto ad un aumento del volume plasmatico, quindi la parte, diciamo, liquida del sangue aumenta anche del 50%. Quindi, nonostante la metà circa delle donne in gravidanza, nei paesi industrializzati sperimentano l'anemia in gravidanza, la supplementazione di ferro attraverso degli integratori non è ancora una supplementazione, diciamo, di routine. Non va fatta di default a tutte, ma va valutato caso per caso. Noi, con l'alimentazione, possiamo in parte cercare di prevenire o comunque di migliorare l'assunzione e l'intecca di ferro in gravidanza. Non dobbiamo incappare nell'errore che fanno tante persone di pensare che il ferro lo troviamo solamente nella carne, soprattutto nella carne rossa. Lo troviamo sicuramente lì, ma lo troviamo in tutti i prodotti di origine animale, quindi prodotti itici e uova comprese, ma lo troviamo anche in tantissimi prodotti di origine vegetale, in frutta secca, semi oleosi, legumi, verdura, soprattutto quella a foglia verde.